Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella alla marena. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, olio di semi di girasole, zucchero, latte, estratto di vaniglia, lievito per dolci vanigliato, amarene, sciroppo di amarene e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimbi per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio unire prima l'olio e poi il latte. Aggiungere la farina, il sale, l'estratto di vaniglia, il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. trasferire in uno stampa a ciambella da 24 centimetri mettere sopra lo sciroppo di amarene e con una forchetta variegare, mettere sopra le amarene, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella alle amarene, grazie e alla prossima ricetta! Ciambella alle amarene, grazie a tutti! Ciambella alle amarene, grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!